Più che vittoria da ottenere c'è da riabilitare l'immagine della nostra squadra perché dopo la partita contro Cisterna credo che il primo obiettivo sia questo. Nel senso che poi naturalmente la vittoria potrà essere la conseguenza di una buona gara ma in primis credo che la nostra squadra, tutti noi, si debba pensare a in qualche modo riabilitare un po' quella che è la nostra immagine agli occhi dei tifosi perché purtroppo contro Cisterna la prestazione è stata veramente al di sotto di qualsiasi tipo di aspettativa. Contro Cisterna non ha funzionato nulla ma in particolare non ha funzionato l'atteggiamento con cui siamo scesi in campo perché siamo stati sostanzialmente sovrastati dal primo punto, dalla prima azione all'ultima da una squadra più impante che sicuramente aveva più voglia di noi di giocare, di vincere la gara e questa cosa si è tradotta poi in una prestazione veramente al di sotto di ogni qualsiasi previsione.